eccoci tornare su arca allora raga seconda cave per noi nico ovviamente dove è avanti ma sono portato tanti di quei bastoncini luminosi veramente mi illumino tutta la che va bene lì cioè questo è l'oggetto più bella la versione cioè troppo spenzioso insami la scaletta no non avevo visto ma c'era pure prima si si la estendi e la ritrai lo sconfondato a occhier ok ma ho provviso all'ora ora io ho scritto tutto il mio nocce uno spettacolo come lo dovrebbe da anche potenziamento o l'argomento e' quella 10 livelli in più io ci posso portare anche gli altri che devo un po' altri due che dice no vabbè ma penso così boss quando c'è il potenzialmente il capo un banco potenzialmente da coppia e' mamma amici i tiro bastoncini come se non ci fosse un domani va che meraviglia ti ra' lontos a me un po' e' troppo addosso basta e' chi va albero di natal esatto la testa no ma se sfizio si trova ti facciamo del più colore tra le faccia almer roger ok questo c'è luce da davanti mi facevo ombre ok 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 dopo a destra cosa come si dice tutti strade portano a roma quindi basta che non mi abbondano quando oppure a stiglie di corte la mano tu finchè non vedi roba strana e cattiva va tutto bene fa attenzione solo all'altro pleuro affinato piccolo c'è qua no no come regola qua ci dovresti avere pure il buff del capo branco poi ma ci sto ci sto no 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 non fare quello che hai fatto è proprio che 4 e 20 cosa vuoi che possa me andare storto ehm veloce veloce ahhh vabbè no ma cosa bella è che non ci attacco a raptor guarda lì ehm aspettavo quello che ho dicessi c'era incredibile vabbè è morto c'è la cassetta qui c'è la vuoi ehhh si dai ma fatti l'elocente no 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 ti prego non lo faccio mamma mia per quanto questa me la ricordo che è andata a destra tutto a destra fatti per il giro e anche che qua a sinistra qualsiasi c'è anche strada che non solo porta questo è il tuo posto per un giù raptor ehm npc tanti npc ma l'attacca ehm sono baggatissimi erano trasparenti solo da un pezzo dai muri ma che vuol dire trasparenti da qui da sinistra escono dei muri da qui dentro c'è un shit ah capito fanno l'imboscata l' npc c'è sta mmm fissate quando la mia strada che era il contrario a quella tua giusto si per me questo è proprio totalmente nuovo ehm si dobbiamo tornare dall'altra parte perchè pure che metta la ziplano lì e non ci possiamo arrivare no forse fosse riuscire oh oh scopriamo cos'è andiamo dove dice questo comunque la bc di ark non correre mai nelle cave anche perchè guarda la sotto e io corro anzi ti dica avela col fatto che ci sono pure così pochitino pur strano ah eccoli gli npc vabbè lì ando stai ah uscitiamo dalla roccia quando le imboscate qua qua qui si è pure domestico e danno pellicce danno pellicce forse del deserto ehm tirando un po' di tutto pure la carne essiccata a bordo beh vabbè quella con il l'essiccatore fabbrica diciamo steampack fabbrica a una velocità paurosa la qua serve la ziplano fino a lì sotto che dici? ah si ho l'organico vola bisogno intrecciato faccio una una sola cv esce si qual è stato super adverso con spazio vande cedì no per nbc ci passiamo dopo la testa ciao maggio amni non muo immagine che prenderò il numero un banzi prende cartone la rompono e non posso scoprirlo direi che si decisamente di ok per il futuro mette le penne più in alto oh oh altro braver aspetta che gli sparo col fucile a pompa no esatto ok ha morto bello questo fucile a nooo che c'è non lo dico cercavi il carchino su femmina l'ha visto 5.60 allo su dobbiamo andare hai paura? no no è che almeno se è succeduto qualche bug strano non lo so col piscina barriera invisibile per di tutto l'inventario tipo come su al te no no le mappe le mappe originali non capita mai eh cheat una volta qua cosa si chiama piccata arrampicata ha sparato non lo so in fondo al mondo non lo so dimmi se mi vedi eh sì che stai scendendo giù ti prendi scendendo a volte a volte ha il dubbio se non ho vabbè c'è il discorso del dell'arte fatto lì l'effetto un po' 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 troppo un pece molto meno roba quello che ho spettato fin giro appena anche il primo carchino la redd amo questo noto e quello del 560 ma guarda l'arte fatto davanti a noi la rai c'è la strada senza scendere ma non volendo se posso scendere non so dove arrivo qualcuno è stato qui ok eh c'è una di play ah ma perché c'è la di play beh nel dubbio artefatto ci portano a casa adesso due su tre ci sarà qualcosa da qui dietro no che altro perché hanno messo qui vedi di chi hai visto di chi è eh niente lo dici eh niente lo dici po' per dipendere po' come minimo ha lasciato Roberto poi vede il video e dice c'è non ci lasciare ti mangi c'è una strana ah bella luce c'è un luogo ha fatto con cipro risultati che lo prendo io faccio il mondo tutto certo che neanche un drop a me gli altri states neanche una cassettino vedi e infatti dopo lo vado ho fatto perché da sovra la vado non puoi caricare senza sparare oh non sono ok è un uomo sì sì non sono Oh che carino, l'ha ucciso il Goatail. Poverino. Oh oh, qui c'è l'altro artefatto, vero? Oh, qui c'è il NPC dal null. Eh, questo è il lato sbagliato di là, non sai che c'è? Di qua, vieni. Ma questa parte qua. Oh oh, non l'avevo visto. Eh. Eh. No buono. Ecco, armatura e l'alpha. Che non asca nooooo. Sto ralpha, dai. MortenTem. Che comunque. Sta livellando solo il lato. Non sta livellando nulla. Aspetto il dubbio. No, 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 no. No. Aspetta dove, caspita, sta macchina. Cioè non si. Guardi con l'altro è entrato. Ah, ma se no, se no dove è l'altra parte di cave dove c'è l'altro artefatto, vuoi essere? Oh, stiamo facendo il conto della strada. Mmm, non lo so, perché dovrebbe essere uno in biome. Cioè uno in biome bruno, uno in quello verde e uno in quello rosso. No. Eh, gli arti. C'era tutti se no lo sono in tre. Uno scorso. Ma è naturale questa... Questa arti play? No, qualcuno già ha messo in. Eh. Dio, si esce. No, ma io sono già metà vita. Ma... Questa è proprio che stiamo a fare giro giro d'onda. Sai che è quella che abbiamo messo? No, non abbiamo messo. No, di qua non siamo mai passati, guarda. Ehhhh. Ma vedete dove usciamo. Vedete dove siamo venuti prima, vuoi vedere? Spero di no, perché devo prendere l'artefatto ancora. No, hai capito, è l'ingresso segreto da dove noi siamo tornati poi indietro da giù. Eh. Vabbè? C'è il solito. Abbiamo... No, no, è tornato di qua allora. Riprendiamo da qui, perché abbiamo la... la drift line rotta almeno. Risparmiamo la drift line. Si è nascostissimo. Quello devi sapere... Accorci strada, no? Eh... Si. Ma insomma, non lo saprei. Più meno. È alternativo, ma che... Il fatto di risparmiare strada non lo so. È da lontanissimo. In realtà era nascostissimo, c'è un senso. Sì? Ci fosse stato almeno un drop, diceva po'. Faccio altro giro, almeno c'è il drop, non c'è neanche voi. E infatti tu arrivi qua e ti fa vedere il discorso artefatto. Ma non fai rumore, quindi non è spawnato di nuovo. Ah, mannaggia. Continuiamo a testa. Se c'è altro da prendere. Un groppino. Non è spawnato nì, tu la dò. Ah, ok. Allora. Non c'è palmiro. Ok. Non piaceva il rumore però, per la verità. C'è solito quando il non... Si. Ok. Eccoce, allora. molto più il problema di fronte per curiosità per tonalità ma che forse c'è ma sinceramente non mi sembra ci sia un cao ah tutto questo per arrivare dove c'eravamo arrivati va bene guarda una che impazienza manco un drop cioè è tristissimo non voglio vederla di fronte no, non serve a niente andare a vedere no, sono caduto no? no, regalala ma vuole salire di là penso perdono ehm come lo spiego dall'altro lato non dove il carchino sta dall'altra parte vado avanti ti vuoi dire contro il muro perchè ma poi te vedo sotto acqua di quando è che crashato è crashato caro, credo sia quello non vorrei fare quello da quelli che vincorre drop giallo ah ma è stata una cosa fighissima vuoi venirla a vedere tu vieni proprio un attimo una cosa vieni a... aspetta ci sono, c'è Watson vieni qua che c'è un droppeggiallo bellissimo ehm vieni a prendere tu guarda che c'è io lo guardo un attimo Gauguin che cavolo te l'ho messo guarda che sella che c'è guarda che sella che c'è lo scudo quello era comodo si va beh è più un perotto studio tutto tutto grazie sposti colobbe con la moto e tu hai trovato l'altra anche stato il 47. non è capito ancora un gaspida la sposta ma pulato tutto il fatto non sono stato ma che cacau ah volevo provare a domestica con cosa, con cosa si chiama con ragno che ho fatto al cuore ma che cosa spogna solo dentro le cave smpc non avevo letto 25.564 di cristallo ah e lo vuoi craft ancora? 15.000 di perle non ho mi crafto la sella del ratto, quella si che è figa lanciami una cosa da una stellina mi faccio sei un'albero da Natale praticamente con un amico su un altro server ci divertivamo anni fa due volve da riempirci con questi qua ma sospiziose capire eh ma c'era una mod che li potevi cambiare di colore quindi la metti in bianca la metti in bianca quelle la LR con la moda e quelle cose infinite quindi utilizzabile quindi o che sono ah vero, giro, 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 giro e forse da dove siamo usciti, sai, no è la grotta che abbiamo fatto hai certo che ho un labirinto? bello l'hanno fatto sta grotta ma è vero 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 c'è anche se metto la 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 salita ma c'è di un art patto no no povera ed no povera ed quest'anno un sacco di cose mimetiche un sacco di mimetiche di cos'è il deserto ti ero con un sacco di armature dunque possiamo uscire di live easy ma non spero che me lo ripino un attimo sfunto eh non puoi tenere due no? ma c'è uno non credo da facciare bene ah no ah no ah eh niente possiamo uscire ah no riusciamo tagliando dal listo cosa dove siamo arrivati adesso oh è differente ma da fare ma che rispona qualche troppo per strada questo che ora si è sponato con lo giallo no ma è stato buio qua un'altra ma è stato buio qua un'altra c'è se ne piacciono entrerlo le rocce comunque so boh è stato sbagliato farlo ambo ecco dovrebbe presento o per giri 4 indietro il cancio a strada per il buco attorno a noi n dobbiamo fare in giro un mondo insomma è stato così felice di vedere quello zeppelin guarda del giur veramente no perchè al finale c'è caspita comunque è grande un labirinto là sotto per fortuna però non è che spawnano tantissimi di mi ricordavo che ce ne fossero molti di più allora allora sferetta vabbè ho avuto a prendere vabbè c'è la sferetta no nooo e fu così che nico no no sparando sul sacchetto ho recuperato tutto quello che c'è nel sacchetto eh eh allora marcia indietro ah se se le direte da sole le scalette no no le ho prese le ho disegnate io ah ok eh sarebbe piaciuto e niente ragazzi secondo artefatto recuperato spero che comunque questo video vi sia piaciuto se è così mi raccomando iscrivetevi a lasciate un commento mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio ciao ciao belli ciao 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 ciao